Ci troviamo in Contrada Santa Rita a Caltanissetta, qui c'è l'azienda, c'era l'azienda del signor Salvatore Gallo. Siamo venuti qui circa tre anni fa, queste serre alle mie spalle erano piene di funghi. Funghi grandi, molto belli da vedere ma sicuramente anche da gustare. Ora il deserto non c'è più nulla, perché? Perché non si può lavorare più, le spese sono enormi e non si recupera niente. Lei ha deciso di vendere tutto? Ho deciso di vendere tutto, ma se si trova un compratore, se c'è, sono tutti più morti fami di mia. Quando si accucchiano tutte le spese se le vanno a pigliare qui a Cacomanna. Lei prima ha detto Renzi adesso vuole l'Imu? No, perché io non pago più niente, non è che mi arriva tasse, no io non pago niente più. Quando si accucchiano le soldi se le pigliano ieri, è bene. Ma l'Imu qui è cara? Non lo so, perché non l'ho pagata e non la pago. Lei quanto ha spesso per realizzare tutte queste serre? Io per realizzare le sole serre 480 milioni delle vecchie lire. E prima la vendita dei funghi andava bene? Si travagliava, si travagliava. Si vendeva anche fuori? Si vendeva fuori, tutti i posti si vendeva ora, non si può vendere più, per nessun motivo, perché le spese sono enorme, a macchioire e basta, non si può lavorare. Quindi lei ha deciso di vendere però non c'è nessuno che ha i soldi per acquistare? E cosa va a accattare? Come? Cosa va a accattare? Quando si accucchiano tutte le spese perché non pago più, che ho le tasse, niente pago più. Quando si accucchiano, vienno, e se lo pigliano ieri. E con 500 euro che hanno venduto le pensioni, pago le tasse, pago le spese. Dopo 37 tanti contributi che pago, quando vendono i 580 euro, 480 euro, o mesi. E gli scampano ieri.